Brindisi, baci e abbracci e tanta allegria, Piazza Municipio è esplosa sulle note del Millennium Party. In tantissimi, circa 5.000 persone, secondo la stima ufficiosa dell'amministrazione comunale, hanno preso parte all'evento per dare il benvenuto al nuovo anno. Lo show ha preso il via alle 22.30 con la musica di Ciccio Ligiato DJ accompagnato dalla voce di Johnny dei JXJ. Allo scoccare della mezzanotte e dal palco, il sindaco Giacomo Tranchida e l'assessore Emanuele Barbara hanno salutato i presenti. Da Trapani parte un messaggio di pace, stoppa le bombe e che il sole e la luce tornino a risplendere su tutte le terre martoriate dalle guerre. Buon 2024 ai trapanesi e grazie a coloro i quali hanno reso possibile la festa, adoperandosi per garantire la sicurezza, nonché a chi, anche in serate come questa, lavorano per il bene comune. Poi il tuffo nel passato con i brani che hanno accompagnato intere generazioni, la densa anni 90 di Sergio Mauri e Alan Caligiuri, che hanno fatto ballare i presenti fino a nottefonda. A far dal cornice all'evento, l'animazione è targata Notorious Eventi. Non si sono registrati incidenti, grazie anche all'impeccabile servizio d'ordine. Sicuramente un successo per l'amministrazione comunale e per l'assessore Emanuele Barbara che ha creduto nel progetto. Scritto 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 Scritto